La Biblioteca del Circuito Moris di Torino entra a far parte del circuito delle biblioteche civiche a Torino. Cosa significa per voi? Per noi significa un grande riconoscimento, il riconoscimento da parte della città e del circuito delle biblioteche civiche, del valore culturale della nostra collezione e quindi indirettamente del valore culturale per la società e per la città in cui viviamo, della cultura, della letteratura e della saggistica a tematica LGBT. Quindi è un grande riconoscimento di tipo politico e sociale. Cosa succederà adesso? Adesso ci aspettiamo che la nostra biblioteca sia più frequentata dalla cittadinanza tutta, che potrà avere concentrato in uno spazio, in un luogo fisico unitario e coerente, un patrimonio culturale legato alle tematiche della libertà sessuale, dell'emancipazione e della convivenza civile. Da questo momento il patrimonio librario e documentale sarà anche visibile nel catalogo generale online? Sì, questo vuol dire che chiunque acceda al catalogo collettivo delle biblioteche civiche di Torino potrà trovare anche i nostri libri, potrà venire da noi, visitare la biblioteca, prendere il libro in prestito. Speriamo di poter lanciare al più presto anche un servizio di prestito intersistemico, cioè di prestito tra biblioteche, per cui all'interno del circuito delle civiche speriamo di poter raggiungere anche cittadini che magari non sono e non vivono nel centro storico della città, ma che attraverso il meccanismo del prestito tra biblioteche potranno comunque usufruire dei nostri servizi. Il vostro rapporto con il territorio? Il nostro rapporto col territorio nasce dalla fine degli anni Ottanta, crediamo molto nel costruire una convivenza con il mondo circostante, infatti siamo anche molto contenti di avere una sede all'interno di un complesso abitativo popolare col quale abbiamo cercato negli anni di costruire una intesa e una convivenza costruttiva e pacifica da tutti i punti di vista, quindi ci piace anche organizzare delle iniziative aperte che non siano soltanto la presentazione del libro, ma anche iniziative più festose, più arricchenti e siamo contenti di poter continuare in questa strada anche grazie a questa visibilità che ci verrà data dall'essere dentro il catalogo.